Dopo la mostra Raffaello Impossibile, l'aeroporto delle Marche torna ad essere contenitore d'arte. Questa volta l'opera è di un attore pluriplame Oscar, lo scenografo maceratese Dante Ferretti, che questa mattina, insieme a sua moglie Francesca Lo Schiavo, ha inaugurato l'installazione di una scultura al Terminal Arrivi, accolti dal presidente della regione Luca Ceriscioli e dall'assessore regionale al turismo e alla cultura Moreno Pieroni. Si tratta della statua Enolo, già pensata e realizzata per Expo 2015, alta 3,5 metri in vetroresina, e fa parte di originali installazioni urbani che richiamano nelle sembianze i ritratti burleschi dell'artista milanese Arcimboldo, ispirate alle sue teste grottesche composte da prodotti ortofrutticoli, pesci, uccelli. Gli esemplari hanno fatto il giro del mondo dopo Expo e ora appartengono alla collezione privata maceratese di Giancarlo Cossiri, che la mette a disposizione per essere ammirate. Il presidente Ceriscioli ha voluto ringraziare il grande scenografo per la sua presenza. La stazione Arrivi dell'aeroporto di Ancona, la scultura di 3,5 metri di Enolo, fatta da Dante Ferretti, è un Arcimboldo 3D, tutto dedicato al vino, dall'imbuto alle bottiglie, all'uva, è veramente un bellissimo modo per accogliere chi verrà nelle marche. L'abbiamo fatto con Raffaello qualche mese fa, una mostra di grande impatto, e se l'impatto lo darà questo gigante, che racconterà la nostra terra, in questo caso non come cultura, come faceva Raffaello, ma sotto il profilo del buon bere, del buon mangiare, ricordando che è uno dei motivi principali per cui si fa turismo in Italia, proprio quello di che capita nel giorno in cui lanciamo un'altra misura strategica, di 13 milioni e mezzo, per incrementare il numero di voli sull'aeroporto. Abbiamo lavorato negli scorsi anni per salvare l'infrastruttura, adesso la finanziamo col beneplacido della Commissione Europea, quindi facendo le cose come si deve per accogliere voli. Immaginiamo da 40 a 50 destinazioni che si andranno a giungere, quindi voli che si aggiungeranno sull'aeroporto per i prossimi tre anni. E anche questo, combinare insieme, iniziative dentro l'hangar per accogliere scelte strategiche, che è un po' il modo di lavorare che ci accompagna in questi anni, continuando a investire in maniera strategica sulla crescita turistica del nostro territorio. Ne avevo perso le tracce, dice il maestro Dante Ferretti, fino a poco tempo fa, poi le abbiamo ritrovate grazie a questo mecenate che ha voluto acquistarle. Enolo può bere rappresentare anche il buon vino marchigiano, e qui, in questo bell'aeroporto, ci sta molto bene ad accogliere i turisti e a diventare l'ambasciatore del buon cibo della nostra e mia regione. Enolo resterà all'aeroporto Sanzio fino al 30 novembre, e l'idea del progetto, intitolato Welcome, è dell'associazione culturale Mi Marche Iperespressioniste e del suo direttore artistico Davide Miliozzi, a cui Ferretti ha aderito con entusiasmo. Francesca Lo Schiavo ha espresso l'intenzione di voler lavorare insieme a suo marito a progetti per le Marche, mettendo a disposizione esperienza e competenze. Tra questi ci sarà anche un museo Dante Ferretti a Macerata, probabilmente all'ex Cinema Corso, che potrà ospitare, oltre alle opere originali del maestro, anche altre attività, tra cui start-up e iniziative per giovani talenti.